Presidente Morello, l'onorevole Zanella ha di fatto anticipato la cosa che io volevo dare quasi col piglio della comunicazione, come dire, fresca, però la sua commissione, che è la nostra commissione di riferimento per i lavori del Parlamento, ha preso un'iniziativa molto importante, ovvero lei ha lanciato un'azione di investigazione, di approfondimento da parte della commissione, sul 5G, proprio sul 5G, quindi si potrebbe dire che nulla cade meglio di questa iniziativa della commissione da lei presieduta, proprio in una conferenza come questa, dove l'ascoltiamo proprio per sapere quali sono gli orientamenti che intende dare a questo percorso appena avviato e se per esempio intende anche coinvolgere il mondo della ricerca e dell'università che qui attraverso il CNIT è rappresentata in modo, devo dire, territorialmente rappresentativo. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto grazie, grazie per questa bellissima occasione, complimenti al CNIT, complimenti a chi è organizzato perché questi sono momenti non solo importanti per voi che siete, l'ho sentito dire 34 volte, quindi lo dico la 35esima, dei tecnici di questo mondo. Ma perché sono importanti? Perché noi, noi che insomma siamo, magari arriviamo da altri mondi, ma che dobbiamo normare rispetto a quello che abbiamo di fronte, dobbiamo renderci conto di quello che sta accadendo. Sta accadendo, e lo si è detto, a prescindere dalla mia, dalla vostra, dalla volontà di chiunque in questa sala, sta accadendo perché il mondo va in quella direzione, sì è vero, potrebbe essere fra due anni, fra cinque, fra quindici, potrebbe essere tra un po'. Ma siccome si è detto alcune aziende hanno investito sei miliardi e mezzo su questa partita, io ritengo assolutamente ragionevole che queste aziende desiderino nel più breve tempo possibile avere un ritorno degli investimenti fatti. E quindi, lo dico in maniera assolutamente acritica, questo è un dato oggettivo e peraltro, siccome l'Italia, abbiamo sentito, insomma, è inutile farsi flagellarsi quando non ce ne sono le ragioni, da questo punto di vista ha le carte, e voi lo dimostrate, per essere sicuramente uno dei paesi più avanzati rispetto a questo argomento, beh, cogliamo l'occasione di portare a conoscenza, non solo quindi nel vostro mondo, ma anche nei mondi paralleli. Perché vedete, io mi occupo di comunicazione, io faccio il giornalista, quindi io sono un tecnico della comunicazione, e teoricamente quel mondo dovrebbe essere, l'editoria, il giornalismo, eccetera, dovrebbe essere abbastanza avanzato per quanto riguarda, non la tecnicalità, chiaramente, ma la conoscenza di quello che sta per avvenire, anche per informare molto semplicemente l'opinione pubblica di quello che sta avvenendo. Io mi ero interessato, sono persona curiosa a questo, all'argomento 5G, guardavo il mio spicchio, quello che riguardava l'editoria, il giornalismo e tanto altro, e poi arrivando in una posizione un po' diversa, mi sono reso conto che effettivamente il mondo è molto altro. E allora, se il mio ragionamento è stato molto semplicemente questo, se una delle categorie, come veniamo definiti, che dovrebbe occuparsi, dovrebbe sapere quello che succederà tra poco, per le ragioni che ci siamo già detti, è così indietro rispetto a quello che sta realmente per avvenire, beh forse allora c'è veramente un gap rispetto alla conoscenza dell'opinione pubblica generale. Infatti il mio invito a voi, prof, chiaramente io non do compiti perché i prof siete voi, però una cosa molto importante è quello di aprirsi, aprire all'opinione pubblica. Io non leggo mai sui giornali, a parte la famosa guida assistita che sicuramente è un tema molto caldo, che insomma tocca anche la sensibilità più spicciola di noi automobilisti, beh non sento o non leggo molto spesso su giornali, testate generaliste, non di settore, di quello che potrebbe essere e probabilmente sarà. Perché giustamente, prima il dottor Viola diceva, fra tre anni sul nostro trabicolo che abbiamo in tasca, ci sarà il nostro genoma. Ok, io lo darò al mio medico, il mio medico le assicuro, adesso sicuramente tutti quanti avete dei medici di altissimo livello, io ne sono certissimo, però francamente il mio medico, grazie a Dio, io ne sono ben fiero, non va oltre all'aspirina, all'augmenting quando capita e forse a qualcos'altro di molto semplice. Cioè io vorrei essere certo che avendo il mio genoma, poi mi spiegherete a cosa serve avere il mio genoma, chiaramente sto scherzando, sul cellulare, poi ad avere e a consegnare il mio cellulare ad avere di fronte un operatore in grado di sapere che cosa ha in mano il mio genoma, il sistema 5G che permette probabilmente di conoscere molto meglio il mio genoma di quello che conosco io stesso, che ce l'ho addosso, ce l'ho dentro. Quindi a parte le battute, però attenzione, il pericolo è che a questo punto ci sia la tecnologia, ieri sera ho avuto veramente un'interlocuzione molto interessante con alcuni di voi, che appunto mi hanno spiegato quali sono le reali applicazioni, quali potrebbero essere le grandi prospettive, ma non di Star Trek, e questo l'abbiamo capito, va spiegato questo però, va spiegato questo alle persone. Non stiamo parlando del futuro dell'iperuranio, stiamo parlando di tra poco, abbiamo detto 2022 si libereranno molto probabilmente le frequenze, quindi chi ha investito vorrà tornare, l'autoguida assistita è sostanzialmente una possibile realtà oggi sperimentale, non domani dopo domani, domani una realtà realmente fattiva, Vodafone sta facendo delle sperimentazioni molto importanti per quanto riguarda la sanità e altro, su Milano, Tim e tanto altro. Insomma, attenzione che, quindi ribadisco, grazie, è importantissimo essere qua, però usciamo, usciamo e diciamolo. Allora il nostro compito, ed è per questo, e chiudo, ed è per questo che è venuta insomma la volontà di fare questa indagine conoscitiva parlamentare rispetto al 5G, quindi interloquendo con tutti, dall'etelco che sono evidentemente le prime, agli interlocutori aziende, università, giustamente il tema dell'etica è un tema che non possiamo lasciare in secondo piano, la sicurezza che può essere la pubblica sicurezza ma anche la difesa, perché mi permette dottor Bernabè, è vero, sicuro, oramai le infrastrutture sono di molti, però per esempio oggi apro il giornale e guardo un sito internet e vedo che c'è una battaglia vera e propria tra gli Stati Uniti e la Cina per quanto riguarda questo tipo di infrastrutture, io non voglio stare a guardare, se Agicom ha fatto delle regole che non so come andrà a finire su Telecom, non ho la sfera magica e quindi certo non dico nulla perché altrimenti avessi la sfera magica probabilmente giocherai il numero all'otto, ma se Agicom ha fatto delle regole che erano delle regole che potevano andare bene qualche tempo fa, le regole si possono cambiare, i comandamenti sono dieci e quelli sono fermi e fissi sulla pietra, il resto si può cambiare. Detto questo, chiudo ringraziandovi nuovamente, dandovi la massima disponibilità, sono sicuro di rappresentare tutti i colleghi seduti al tavolo per interloquire rispetto a quelle che sono le possibilità che noi possiamo darvi e che voi potete darci perché a prescinde da quello che succede sta arrivando la marea, ci siamo resi conto che la marea non la possiamo fermare con le mani, sarebbe utile governarla, delle norme vanno fatte, quindi le leggi verranno fatte, secondo me è assolutamente ragionevole che chi fa le leggi comincia a sapere un po' di più di quello che dovrà andare a giudicare a normare. Grazie. Grazie Presidente Morelli